Siccome io mi occupo di moda e comunque in generale di costume e società, spesso le stoffe hanno come fantasia la frutta, dei cibi e allora mi è venuta questa idea di fare queste interviste a dei personaggi della nostra moda e intanto intervistarli sul loro rapporto con il cibo, farli parlare dei loro pezzi iconici ai quali poi si è ispirato lo chef Emanuele Vallini che ha formulato delle ricette, che sono quelle che accompagnano le interviste nel libro. Ho cercato di capire più o meno come si nutrivano, quello che gli piaceva e ho cercato di fare delle ricette molto, molto, molto semplici. La mia cucina è pulita, lineare, qui si parla di pappa al pomodoro, si parla di un panino straordinario con il prosciutto toscano e dentro una mousse di carciofi, faccio un pan coniglio, un baccalà quasi alivornese, insomma cose molto semplici. La moda e la cucina che si contaminano vicendevolmente per intrecciarsi con l'arte è nato così dalla teliera alla cucina, arte, moda e grandi menù. Il volume di Elisabetta Arrighi presentato allo spazio Lebole di Arezzo Sono vissuta di arte e ho concentrato in questo negozio arte, fantasia, pensieri, memorie e cerco di renderlo sempre vivo con piccoli eventi, cose abbastanza interessanti e tutto quello che c'è è me stessa, tutto quello che metto nel negozio, tutte le tavole che faccio, gli orecchini che produco.